Nel primo semestre del 2022 il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato ha aumentato del 27,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, da 67.500 a 86.000, circa 18.500 contratti in più. Loren De Noto, ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati dell'Inps. La crescita ha riguardato tutte le principali tipologie contrattuali. In termini percentuali è stata particolarmente accentuata per i rapporti a tempo indeterminato. Cresciuti di quasi il 50% rispetto al primo semestre 2021, da 8.600 a 12.700. La prima parte dello scorso anno era ancora caratterizzata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che hanno paralizzato diversi settori, in particolare quello turistico e della ristorazione. Inoltre i dati illustrati non fotografano ancora l'attuale clima di incertezza e le criticità che già si preannunciano per quanto concerne l'inflazione, la perdita di potere d'acquisto delle famiglie e la crisi energetica. Il numero complessivo di assunzioni registrato nei primi sei mesi dell'anno in regione è risultato comunque superiore, di oltre 7.000, anche a quello del primo semestre 2019, l'anno precedente alla pandemia. Grazie. Grazie.